Il Borgo Medievale di Civitella in Valdichiana si sta già preparando ad accogliere i premiati sportivi ambasciatori che il prossimo 13 luglio arriveranno a bordo delle autostoriche. La Valdichiana sarà protagonista del ventesimo premio Fair Play Menarini. Oltre a Castiglion Fiorentino, sede della cerimonia di consegna, e Fogliano della Chiana, che con il suo carnevale ospiterà la cena di gala, Civitella in Valdichiana accoglierà i premiati della ventesima edizione, insieme ai protagonisti delle edizioni precedenti. Arriveranno in questa bellissima location, in questo borgo medievale, che è appunto Civitella, la nostra perla di questo territorio. Quindi qui saranno accolti dall'amministrazione, dal nostro sponsor Caffè Corsini, che offrirà appunto questo pranzo dove enogastronomia, bellezza del pesaggio, diciamo che si incontreranno. Valorizzeremo quelli che sono i prodotti tipici, valorizzeremo le nostre bellezze. E quindi sarà fatto visita di questo bellissimo borgo, con la sua galleria d'arte moderna, la sua sala della memoria, la bellissima rock e tutta la veduta sulla Val di Chiana, che possiamo godere da qui. Quindi sarà una giornata intensa, importante, dove Civitella verrà invasa da tantissimi sportivi, che saranno poi premiati, quindi gente anche di altissimo valore, da un punto di vista etico. E questo è molto importante. Infatti quando ci è stato proposto di poter essere partner in queste giornate del Fair Play, l'abbiamo proprio accettato su quest'ottica, perché potevamo coniugare promozione del territorio, delle nostre bellezze, con l'ospitalità di testimonial dello sport importanti. Quindi penso che per un'amministrazione sia davvero doveroso cogliere queste opportunità, queste occasioni, e lo abbiamo fatto. In questo voglio davvero ringraziare il Fair Play che ci ha dato questa opportunità, ma soprattutto il nostro sponsor, un'azienda del territorio, che si è subito resa disponibile a contribuire a questo evento.